Dal prossimo 30 settembre verrà riattivato il servizio navetta per il mercato, consentirà ai cittadini di raggiungere l'area mercatale di via Sandro Pertini in località Madonna del Carmine, ad annunciarlo il sindaco Adamo Coppola. Il servizio sarà gratuito e attivo tutti i giovedì dalle ore 7 fino alle ore 14.30. La navetta partirà da piazza Monsignor Merola nei seguenti orari ore 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 13, 13.30 e 14. Previste fermate intermedie presso il Cineteatro Edoardo De Filippo e il Terminal Bus. Il ritorno dell'area mercatale è previsto alle ore 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15. La navetta, partendo dall'area mercatale, fermerà anche presso l'Asla, il Cineteatro e Piazza Merola. Riattiviamo la navetta per permettere a tutti, soprattutto agli anziani e a quanti non hanno mezzi propri per spostarsi, di raggiungere l'area mercatale, spiega il sindaco Coppola. Si tratta di un servizio importantissimo che con l'emergenza sanitaria siamo stati costretti ad interrompere. Ora siamo pronti per ripartire. Questa è soltanto una delle iniziative che questa amministrazione comunale sta mettendo in campo per ampliare e migliorare il trasporto. pubblico locale. Il servizio verrà effettuato nel rispetto delle norme anti-Covid.